bene è arrivato il momento noi adesso stiamo perché è arrivato il giorno in cui si debutta l'open gala quindi vi volevamo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti fateci l'in bocca a loro perché ne abbiamo bisogno oggi ci siamo regalati un taxi per andare a fare adesso andiamo a fare la prova tecnica stamattina alle 9 abbiamo fatto la prova al Dancing in Amsterdam adesso stiamo andando al J Street per fare la prova tecnica e ci siamo regalati questo taxi di buono ausfriccio perché questo taxi per andare dove dobbiamo andare sta facendo una panoramica molto bella e molto cara a tutti quanti noi perché stiamo passando sul ponte di problema quindi noi adesso vi salutiamo ben tagliato tutta ciao a tutti quanti tra un po' di siete più niente però grazie a tutti 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 Grazie a tutti.